Nel chiarire il concetto di episteme che a suo parere è operativo e strutturante l'organizzazione greca della filosofia, quindi la filosofia classica, Severino insiste anche molto sulla connessione tra l'episteme e la totalità. È un punto importante perché non va confuso, non vuol dire che l'episteme è un sapere che riesce a comprendere tutte le possibili questioni, una sorta di sapere totale, una sorta di enciclopedia completa di tutto il sapere, non è questo. Però ha un rapporto con la totalità che vuol dire che quel che viene affermato in maniera epistemica pretende di essere qualche cosa che non potrà essere smentito da scoperte fatte indagando magari qualche oggetto che prima non veniva tenuto in considerazione. No, non è che potrà mai succedere grazie ai viaggi spaziali o grazie all'indagine di ciò che è microscopico o grazie a qualche altro tipo di indagine non si potrà scoprire una regione della realtà in cui non vale il principio di non contraddizione dal punto di vista del sapere epistemico che lo afferma. Questa frase potrebbe sembrare assurda, ma non sto dicendo dall'opinione, sto dicendo La pretesa del sapere epistemico è che nessuna regione della realtà potrà essere trovata come una regione in cui non vale il principio di non contraddizione. Naturalmente uno può dire che l'argomento che difende il principio di non contraddizione in realtà contiene degli errori e allora dobbiamo discutere questa tesi. Però, a parte questo caso, la tesi, se vogliamo chiarire qual è la tesi, la tesi è che questo principio non può essere negato e quindi non c'è nessuna regione della realtà che potrà essere chiamata in causa per dire, ah, qui ecco che abbiamo una negazione del principio di non contraddizione una realtà che è una realtà che nega il principio di non contraddizione che è una negazione concretizzata del principio di non contraddizione o insomma una realtà che è se stessa e insieme il suo altro. Potremmo al marxino scoprire una realtà il cui essere, la cui determinatezza è complessa da descrivere con i nostri concetti quindi possiamo benissimo scoprire per esempio dei sentimenti che sono ambivalenti ecco, verso una persona proviamo qualcosa che è non solo ogni tanto l'amiamo, ogni tanto la odiamo ma proviamo un sentimento che è in qualche modo ambivalente che sfugge un po' alla separazione tra amore e odio. Benissimo, questo è l'esser sé di questo sentimento e questo sentimento è questa cosa qui e non ad esempio un sentimento non ambivalente una chiara, un chiaro affetto non ambivalente quindi vale anche in questo caso il principio di non contraddizione non è che il principio di non contraddizione dice che tutte le realtà sono belle e chiare c'è il mistero per esempio nel mondo e il mistero è esattamente che cos'è tutta la teoria del mistero adesso è complicata ma quello che sappiamo per certo è che in quanto è mistero non è evidenza ecco, il mistero è qualcosa dove si intravede ma allo stesso tempo non si vede bene eccetera eccetera c'è molto da dire, molto anche interessante da dire ma è questa cosa e non un'altra ad esempio non è il pianeta Marte ecco, non è quella maschera che ho dietro non è l'evidenza chiara e distinta di Cartesio perché è il mistero quindi ecco, c'è questo rapporto con la totalità ma appunto questo rapporto non vuol dire che l'episteme pretende di essere sapere di tutto e in particolare nella filosofia greca questa cosa è chiaramente affermata ci sono alcuni contenuti che riescono ad essere stabiliti in maniera epistemica che riescono a diventare parte del sapere epistemico mentre ci sono altri che non riescono non solo altri contenuti che... ma ambiti della vita e della realtà che non riescono a diventare epistemi per esempio Aristotele afferma, diciamo così, in maniera epistemica che nell'ambito della deliberazione politica lì non ci può essere un episteme ecco, la decisione del politico non può pretendere di essere fondata su una argomentazione incontrovertibile quindi, capite? viene epistemicamente affermato che in quell'ambito lì le cose sono argomentate e difese in un'altra maniera ecco, quindi l'episteme può in alcuni casi fare spazio all'opinione dire qui non abbiamo altro che opinione dobbiamo arrangiarci con l'opinione viene fissato epistemicamente lo spazio dell'opinione il senso di questa precisazione è dire che la missione della distinzione tra doxa e episteme non implica necessariamente di sostenere che l'episteme dovrebbe prendere il posto di tutte le doxa doxai l'episteme può riconoscere che in certi ambiti non si può sollevare al di là della doxa né né una opinione, una doxa che si sa come tale diventa per questo episteme ecco, cioè certo che c'è un tratto in cui mentre sostenere senza avere argomentazione che ne mostra l'innegabilità che il coraggio è superiore alla temperanza è di per sé un'affermazione che non vale di più della sua negazione se appunto non riesce a dar prova di questa sua presunta validità ecco, non è che dire beh, a mio avviso il coraggio vale più della temperanza e come tale come mia opinione è innegabile, no? perché in questo modo abbiamo trasformato la frase da essere una frase sulla coraggio e sulla temperanza ad essere una frase su di me allora sì, certo che è innegabile posto che anche questo sia vero che siamo un'autorità davvero veramente infallibile sulle nostre proprie opinioni che è già problematico ma comunque hai cambiato di senso la proposizione ecco, stai dicendo è innegabile che io ho l'opinione che il coraggio conta meno della temperanza ma l'affermazione importante era il coraggio conta meno della temperanza e questa è la proposizione che è un'opinione e se facesse parte in realtà non è il caso ma se facesse parte di quell'ambito in cui l'episteme stessa dice che non ci può essere episteme ecco che sarebbe un'opinione che non riesce a portarsi oltre lo stato di opinione detto altrimenti prendiamo l'affermazione bene a rinforzare le mura della città che è una possibile conclusione di una deliberazione politica ecco se ha ragione Aristotele l'episteme politiche di Aristotele a dire che in quell'ambito di argomenti non ci può essere un'affermazione incontrovertibile per cui in ultima analisi l'affermazione secondo cui bisogna rinforzare le mura può essere più o meno plausibile portare a suo vantaggio a suo favore una serie di argomenti che però non arrivano a renderla innegabile ecco se è vero tutto questo quella proposizione è un'opinione e saper riconoscerla come tale non la rende altro che un'opinione che si sa come tale quindi questo è il senso di questa prima precisazione la distinzione tra doxa e episteme non è necessariamente una distinzione tra ciò che dovrebbe essere tra un ambito e l'ambito in cui questo primo dovrebbe superarsi per cui l'ideale sarebbe liberarsi di ogni opinione avere soltanto sapere epistemico no perché il sapere epistemico può dire ci sono ambiti in cui dobbiamo prendere posizione in quanto esseri umani e su cui non c'è la possibilità di avere un sapere epistemico questo è il senso della prima precisazione non c'è la possibilità